Ciao a tutte, oggi sfogliamo insieme l'album numero 8 del Livro Rocher, album che è valido fino al 2 luglio 2018. Vedrete subito che ci sono tantissimi prodotti portami con me perché sono perfetti, perché sono waterproof oppure perché sono perfetti da portare in vacanza. Poi c'è nella novità make up il nuovo ombretto line proof che è un ombretto fantastico e oltretutto waterproof che metto subito nella mia tesi deri. Ci sono i set per la cura del viso, quindi i set che comprendono crema viso e contornocchi, i set per la cura dei capelli. Poi abbiamo i vari kit in omaggio con l'acquisto dei vari set solari in base al vostro numero di giorni di ferie, quindi anche questa è una cosa interessante. E per finire i set in edizione limitata estivi. Direi di iniziare subito a sfogliare tutto l'album. Allora eccoci qui come sempre, vediamo album numero 8, iniziamo questo sommario e vediamo la novità per prima perché è l'ombretto life proof tenuta impeccabile. Dice di essere senza siliconi, parabeni e profumi. È un ombretto a lunga tenuta, con olio di semi di cotone, ha anche il temperino incorporato e comunque la mina è retraibile, temperabile, dice di essere una formula waterproof perfetta per l'estate. I colori sono questi, quindi ce ne sono davvero tantissimi e devo dire che questo la metto subito nella wish list perché lo voglio davvero provare. Andiamo avanti con queste offerte della linea serum vegetal che comprendono il trattamento sempre crema giorno più il contorno occhi più la pochette che è carino anche da portarsi dietro. In questo caso 24,95 serum vegetal rughe luminosità, trattamento giorno, contorno occhi e la pochette. Ma comunque ce ne sono tutte le linee, quindi eccola qua, ride e fermete, sempre il trattamento è del contorno occhi e il trattamento giorno e la pochette. Ecco qui, serum vegetal, l'antirughe e l'hifting, contorno occhi, trattamento giorno e la pochette a 29,95. Linea riche creme, 29,95, contorno occhi, il trattamento giorno più la pochette. Anti-hifting global, stessa cosa, 39,95, contorno occhi, trattamento giorno e la pochette. Elic sirgine S, sempre la stessa cosa, 29,95, contorno occhi, crema giorno e sempre la pochette. Diamo ora ai set solari perché abbiamo, allora, il regalo. Questo kit Summer Hair che comprende shampoo, doccia almanoio da 50 ml, il trattamento a notte da 30 ml, quello a riparazione e la mini trousse, eccola qui. E questa è in omaggio con l'acquisto dei set da una settimana. Intanto vi mostro quelli da una settimana, che sono questi, quindi 26,95, protezione alta, latte comfort SPF 30, più latte comfort SPF 50. Oppure protezione media, 24,95, antietà SPF 30, più latte spray SPF 15. Oppure la protezione alta, sempre anti-età, con il trattamento anti-età SPF 50 e il latte comfort SPF 30 a 26,95. E eccola qua, se no set da una settimana di sole, il latte spray SPF 15 e il latte comfort protezione 30 a 24,95. Se no dopo abbiamo, e quindi torniamo indietro, il set per due settimane. E con il set per due settimane si ha in omaggio il telo mare. Eccolo qua, che è anche molto carino, che è da stendere sull'ettina sulla sabbia. Oppure come telo bagno per la casa o come decoro, misura 95 per 165. Quindi è proprio un telo grande, 100% cotone. E ora ve lo mostro. Allora, il regalo è quell'acquisto dei set per due settimane. Quindi ad esempio questo, che comprende il latte spray SPF 15, il latte comfort con protezione 20 e il latte idratante 3 in 1 a 29,95. Oppure 32,95, la protezione medio alta, con il latte spray protezione 15, il latte spray protezione 30 e il latte idratante 3 in 1. Oppure è la protezione media con il latte spray protezione 15, il trattamento anti-età con protezione 30 e il latte idratante 3 in 1. Oppure per ultimo 34,95, protezione medio alta, che è il latte spray protezione 30, il latte comfort protezione 50 più e il latte idratante 3 in 1 dopo sole. Vediamo ora le promozioni per i capelli, in questo caso per i capelli protetti e luminosi. A 12,95 abbiamo lo shampoo, il balsamo e la maschera. E devo dire che questa è davvero un'ottima linea e oltretutto se guardiamo i prezzi dei simili prodotti vediamo che c'è un ottimo risparmio. Stessa cosa per la linea capelli nutriti e riparati. E anche questa, io adoro questa linea. Sempre shampoo, balsamo e maschera a 12,95. Veniamo ora all'edizione limitata, questa è estiva, è del Maracuja, frutto della passione e zenzero. Fate voi, devo provarla assolutamente. Abbiamo, allora, l'acqua profumata, eccola qui, questa qua leggera a 12,95. Se no, l'esfoliante corpo, 150 ml a 7,95 o il bagno doccia, formato grande da 400 ml a 3,95. Oppure il formato da 200 ml a 2,70 euro. Devo assolutamente provarli, penso che siano fantastici per l'estate. E questo era tutto l'album. Allora, abbiamo sfogliato tutto il catalogo. Come solito vi ricordo che qui sotto nell'info box, qui, c'è il link per contattarmi, per le informazioni e per gli ordini. C'è sempre anche il link per scaricare il catalogo in formato PDF, così potete tranquillamente sfogliarlo su tutti i vostri dispositivi multimediali. E non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati e buona estate con il magico naturale mondo di Evrochet.